Promuovere le attività trasnazionali della National Italian American Foundation di interesse per i lettori italiani. È l'obiettivo della partnership triennale siglatta da NIAF e da Italpress, una delle principali agenzie di stampa multimediali italiane. Nell'ambito dell'accordo lanciato il NIAF Italpress Internship in Journalism che offre a tre studenti italo-americani o neolaureati la possibilità di completare uno stage di tre mesi da 36 ore settimanali presso le sedi Italpress di Palermo, Roma o Milano. Siamo entusiasti di unire le forze con una testata giornalistica così prestigiosa come Italpress, ha affermato il presidente della NIAF Robert Allegrini. Le domande di partecipazione a NIAF Italpress Internship potranno essere presentate fino al 15 giugno 2024. Ogni stagista selezionato riceverà da NIAF un rimborso di 5.000 euro per coprire le spese di viaggio e alloggio in Italia. Abbiamo piena fiducia che questi stagisti possano dare un contributo alle nostre redazioni, ha affermato Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell'agenzia di stampa. Tra i requisiti richiesti almeno un antenato immigrato dall'Italia, essere junior o senior al college o essere all'ultimo anno di università a parlare, scrivere e comprendere l'italiano. I finalisti saranno sottoposti a colloqui virtuali in italiano con lo staff Italpress prima delle selezioni finali che si terranno il primo luglio 2024.